Rotatom! 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 Buongiorno amici! Oggi è il giorno numero 4 L'aria è fresca Abbiamo dormito divinamente Ma questo non lo posso fare perché c'è una mente di sing Oggi ci facciamo la giornata relax e stasera ci aspetta il concerto di Damian Marley Il grandissimo Damian Marley Oggi ce la prendiamo molto in relax visto il tempo che ne dici? Ma in realtà io sono anche contenta di questo nuvolo almeno si respira un po' se no tutti i giorni sotto il sole dall'alba al tramonto E tra un po'? Fai tu la colazione oggi C'è? Cucini tu Cosa devo cucinare? La colazione? Cos'è? La cena? O la colazione? Abbiamo deciso di portare un po' di Thailandia anche qui a Rototom e ho preparato il mio magico Panthai e adesso facciamo la provassaggio però per essere in campeggio e non con tutta la mia attrezzatura direi che sono venuti molto bene e una brava coca anche da campo Ma io volevo farvi vedere una cosa guardate la nostra camera Incasinatissima Sembra o non sembra un campo da guarda? Rotatam! 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 Questo succede a qualunque ora del giorno e della notte Eccoci qua Si va a fare la spesa da Marcanomia E' ora di fare la spesa, ci siamo svegliati da poco Compriamo tutto quello che ci serve per la cena e per la serata Si perché stasera è la grande serata Stasera c'è Damian Marley e tutto il paese il suo buio C'è agitazione nell'aria Anche noi siamo un po' agitati E stasera ceniamo di corsa con un panino col cotto Cotto e formaggio Perché dobbiamo fare in fretta C'è una marea di gente che si prenderà tutto il posto per Damian Marley E noi questo non lo permetteremo vero? Assolutamente vero Ti farò andare davanti amore Amici siamo nel parcheggio del Rotatam All'entrata guardate quante gente Stanno tutti facendo il bottiglione Io pensavo fosse una cosa impossibile ragazzi Ma invece proprio un'istituzione spagnola è il bottiglione Ma noi siamo più fashion, siamo da bicchierine E ora ci passano i miei controlli durissimi Vi saliviamo O妳 è meglio Ma è mia Ma è mia Sì Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.